Da mesi ormai nell'est dell'Europa ha in corso una fase di crisi abbastanza forte. Pensando a quello che continua ad accadere, che cosa è opportuno sottolineare? Beh, è un fenomeno che speravamo di non dover vivere. Purtroppo è esplosa una guerra in pieno territorio europeo e l'Unione Europea è direttamente sotto attacco, anche se non militarmente, sotto diversi punti di vista. Le ripercussioni economiche e anche sociali che stiamo vivendo sono molte. Dobbiamo tenere la barra dritta, l'Unione Europea deve far sentire la sua voce. Finora, dopo un attimo di esitazione, ha avuto una posizione molto coesa e forte in termini di rifiuto e di condanna di questa guerra. Ci stiamo muovendo come europei con le sanzioni economiche che sono difficili da gestire ma sicuramente sono una risposta contro questo conflitto di aggressione che è inammessibile contro uno Stato sovrano. Quindi dobbiamo contrastarlo e aiutare gli ucraini. In questa fase, dove è anche importante informarsi nella maniera più adeguata possibile, c'è in cantiere il progetto di realizzare un libro che possa in qualche modo indagare maggiormente su quanto sta accadendo. Che cosa si può dire in più di questa idea? Beh, proprio sentendo un po' giornali, telegiornali, la tv, mi è venuto in mente che come giornalista dare un picco contributo sull'informazione poteva essere importante. Quindi sto raccogliendo diverse interviste ad esperti e quindi ne verrà fuori un instant book diciamo con il parere di molti punti di vista, di molte persone che sono esperte proprio di materia militare, strategica, di rapporti internazionali. È forse un piccolo contributo, una voce in più all'informazione che coinvolge tutti. Cioè tutti abbiamo anche il diritto di informarci ma anche il dovere di informarci correttamente. Se noi possiamo contribuire, noi che apparteniamo in qualche modo al mondo dell'informazione con un approfondimento, con delle chiavi di lettura, fornendo degli strumenti anche di conoscenza al pubblico è opportuno farlo perché no, ci mettiamo l'impegno e speriamo che possiamo parlarne tra un po' in maniera più compiuta.